Il nostro obiettivo finale qual è? È quello che attraverso le attività operative, attività di formazione e di stimolo come Terrà possiamo offrire ai cittadini abruzzesi e alle famiglie e alle imprese un'energia sostenibile dal punto di vista ambientale ma soprattutto anche dal punto di vista economico. Terrà è il titolo del primo Green Forum in Abruzzo dedicato alla transizione ecologica. Nella cornice dell'Exaurum a Pescara dal 25 al 27 maggio politici, imprenditori, associazioni, tecnici e ricercatori si avvicenderanno sul palco per discutere dell'ambiente in cui vivremo. Non si parlerà solo di tutela del patrimonio naturalistico ma anche delle risorse energetiche del futuro. Una manifestazione aperta alla cittadinanza. Il nome deriva proprio dal significato terra, quindi dall'ampio significato che questa parola ha e soprattutto in una declinazione al futuro, quindi l'ambiente in cui noi vivremo. Terrà sarà il primo forum in Abruzzo sulla transizione energetica. L'Abruzzo sarà quindi una vetrina non solo a livello nazionale ma internazionale perché tratterremo gli argomenti più all'avanguardia, quindi l'energia, la transizione energetica, la sostenibilità, la tutela ambientale, l'impatto socio-economico che tutto questo cambiamento potrebbe comportare con i massimi esperti del settore, quindi ricercatori, professionisti, imprenditori, docenti universitari. Partecipare a terra significa essere parte attiva del nostro futuro. Questo è soltanto il primo forum che coincide poi con i cento anni anche del Parco Nazionale d'Abruzzo. È una casualità, però ne sono fiero e orgoglioso, ma soprattutto l'obiettivo è quello di rendere i cittadini parte attiva del proprio futuro, anche perché attraverso tutti gli obiettivi, le attività operative che noi stiamo portando avanti come Regione Abruzzo, sulle comunità energetiche, sull'idrogeno, sull'economia circolare, occorre però anche un'attività di formazione, sensibilizzazione e di stimolo per i cittadini.